Oh, sì, certo. Io... io faccio le voci. Cosa intende dire con faccio le voci? Bella signora, io faccio voci faccio. Sì! Cercavamo sulla terra una vita intelligente. Ops, abbiamo sbagliato. Io vengo di Iran. Voglio permesso e camera di soggiorno. Ti voglio mostruosamente. Mi piacciono i poliziotti perché amano tanto sbatterti dentro. Possiamo scarsa la fuga. Ci mette se scappe di cemento. Maschilista io, io le amo le donne. L'unica cosa che mi sorprende è che non fanno le uova. Io il mondo brucerai per te! La religione è una cosa seria, se no che senso avrebbe? Tu preferisci montare i cavalli, io preferisco montarmi le vacche. Tu godi con corona, io godi con barco. Figaro! E sono Mimo, agonia di un rutto. Signor Hiller, lei si considera molto divertente? Sì, lo credevo. C'era un tempo che io mi trovavo divertente. Però oggi lei mi ha aperto gli occhi.